Ciao a tutti e benvenuti su Amico PC In questo video vogliamo parlarvi di Itch Che cos'è Itch? Itch è una piattaforma di gioco tipo Steam, Origin, Uplay, eccetera Destinata prevalentemente agli indie Itch è gratis Potete, diciamo, iscrivervi gratis Scaricare il client gratis Ed accedere a migliaia di giochi gratis Naturalmente ci sono anche giochi a pagamento Giochi in cui vi viene richiesta una piccola donazione opzionale e non obbligatoria Ma ci sono anche migliaia di giochi gratis Molti di essi validi Altri un po' meno Ma molti di essi validi Per prima cosa andate su Itch.io E decidete se volete utilizzare la piattaforma direttamente dal browser Oppure scaricare il client Personalmente io vi consiglio il client Perché? Perché se utilizzate il browser i giochi vanno, diciamo, scaricati e installati individualmente Se invece utilizzate il client potete, diciamo, installarli sul vostro pc e accedere direttamente ai giochi dalla libreria Un po' come accade con Steam Come funziona Itch? Una volta che vi siete registrati, avete effettuato, diciamo, la conferma della registrazione Che tra l'altro vi voglio dire che permette di proteggere il vostro account con l'autenticazione a due fattori Avete la possibilità di scegliere i giochi da qui Dalla destra ci sono varie categorie Se andate su Free Games naturalmente avrete davanti solo giochi gratis Che sono suddivisi per categoria Infatti a sinistra adesso ci sono le piattaforme Ad esempio potete selezionare Windows Potete selezionare il genere avventura E così via dicendo Quindi a destra avrete poi i titoli per Windows Gratuiti e di avventura Quindi questa è la lista Ed è infinita Vi posso assicurare che è infinita E una volta che, diciamo, vi interessa un titolo Se scorrete con il mouse sul titolo A volte vengono mostrate, diciamo, delle sequenze di gioco Tramite dei filmati GIF O screenshot come in questo caso Se il gioco vi interessa Cliccate sul gioco Altrimenti su ADD Collection Per raggiungerlo direttamente alla collezione E dalla pagina del gioco Che poi la cosa più interessante È che ogni gioco ha una sua pagina Perché Itch offre allo sviluppatore La possibilità di crearsi la pagina Quindi nella pagina di ogni gioco Trovate lo sfondo La GIF Gli screenshot Il video Le informazioni E naturalmente la possibilità di scaricare il gioco Oltre i commenti Di coloro che l'hanno provato In alcuni casi Vi trovate di fronte a una demo Praticamente lo sviluppatore ha realizzato questa demo E vuole avere un parere personale Per poter proseguire o meno il progetto Altre volte ci sono giochi proprio completi Cliccando su download In questo caso potete scegliere direttamente La cartella di destinazione E scaricarlo e installarlo sul vostro pc In alcuni casi invece Non so se ne becco uno Vi viene richiesta una piccola donazione Che non è obbligatoria Ma opzionale Vediamo un attimo Ecco cliccando su download Ecco in questo caso Potete sia donare E sia cliccare su no thanks Just take me to downloads E in altre parole Scaricate il gioco Senza fare alcuna donazione Di recente Itch ha attuato Una iniziativa davvero interessante Che permette Al costo di 5 dollari Circa 4,30 euro Di portarsi a casa Ben 740 giochi Naturalmente l'iniziativa Scade tra 9 giorni O quando è stato raggiunto l'obiettivo Questi 5 dollari Verranno devoluti Nella donazione Per la salvaguardia Diciamo del Cioè contro il razzismo Ecco Parliamoci chiaro Contro il razzismo Soprattutto dopo i recenti eventi Che hanno colpito gli Stati Uniti E quindi niente Praticamente Itch.io è questa Cioè una piattaforma Veramente immensa Dove gli sviluppatori indie Possono mettere a disposizione I propri giochi Gratuitamente A pagamento Con una donazione Ed avere Una pagina personale Per il proprio gioco Quindi non è necessario Nemmeno crearsi un sito web Per il proprio gioco Perché Itch offre Una pagina web Internet Itch Ovviamente Per ogni gioco Quindi ad esempio Se voi siete sviluppatori E avete creato un gioco Potete iscrivervi a Itch A proporre il gioco Gratuitamente A pagamento Avere una pagina personale Come in questo caso Dove offrire Agli utenti Tutte le informazioni Relativi al gioco Quindi informazioni sul gioco Screenshot Video Tutto l'occorrente E la possibilità Naturalmente Di scaricarlo O offrirlo a pagamento O con donazioni Insomma Questa è una scelta vostra Se siete sviluppatori A mio avviso Io vi consiglio Di farvi un giro Su Itch Perché è veramente Una piattaforma Immensa Ci sono migliaia Di giochi gratis Ok Alcuni Abbastanza Diciamo Discreti Altri veramente belli Tipo Wheels of Aurelia Night in the Woods Ci sono alcuni giochi Davvero belli Io vi consiglio Di dargli Una possibilità Anche perché è gratis La registrazione è gratis Il client è gratis I giochi sono gratis Quindi Se siete interessati Andate su Itch.io Il cliente è gratis Il cliente è gratis